Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. La puntata del Grande Fratello 2023 è stata carica di tensioni e discussioni. Soprattutto al centro c'è stata l'uscita di Heidi che ha abbandonato il programma dopo la puntata di lunedì scorso. Ma il reality vive anche di eliminazioni e nomination e nella puntata del Grande Fratello di giovedì 19 ottobre è uscito un altro concorrente. Il pubblico ha deciso di eliminare Samira che ha perso al televoto con il 15%, meglio di lei Rosi con il 18%, Grecia con il 33% e Valentina con il 34%. La sua uscita ha destabilizzato alcuni dei concorrenti in particolare Giuseppe Garibaldi che si era molto avvicinato a lei e Anita. Quest'ultima pensa che a condizionare il pubblico possa essere stata la discussione con Beatrice. La Luzzi le ha dato dell'arrogante perché Samira aveva detto che le sarebbero bastati 5 secondi per prendersi Giuseppe con cui Beatrice ha un flirt in casa. Ci sono poi state le immancabili nomination nella puntata del Grande Fratello 2023 di giovedì 19 ottobre. Gli immuni scelti dagli altri inquilini erano Paolo, Ciro, Anita e Massimiliano, mentre Cesara Buonamici protegge Giuseppe e Angelica. Alla fine i nominati sono Beatrice, Grecia, Giselda, Rosi, Valentina e Vittorio ma nessuno di loro sarà eliminato lunedì. Il meno votato andrà a rischio eliminazione.